Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non so quando stiate guardando questo maledettissimo video. Amici miei, allora scusatemi per la voce, ovviamente prima di iniziare mi scuso per la voce, come sapete sono stato malato, tuttora non sto bene, credo che si capisca visto dalla voce, sappiate che il video sarà un po' così, cercherò di non morire durante la registrazione di questo video. Oggi ragazzi finalmente siamo qui per vedere una delle novità che è stata annunciata ieri sera, ovvero la novità più importante, ovvero l'arrivo della decima classe su Hearthstone. Risponderò anche a molte vostre domande ragazzi, vi ricordo sempre prima di iniziare il video che potete lasciare commenti in descrizione, io li leggerò tutti, lasciate i commenti qua sotto, le scrivete pure quel cazzo che volete, io leggo e rispondo a qualsiasi cosa o a qualsiasi vostro dubbio. Inoltre ragazzi vi ricordo anche di lasciare un potente like antartico, questo video lo sto registrando che sto per morire, se voi non mettete almeno un cazzo di like io muoio e non è neanche valsa la pena, qui metti un bel like, e la vita passa. Allora ragazzi prima di iniziare con il Demon Hunter, oggi andremo a vedere il Demon Hunter, tutte le carte spoilerate finora aggiornati a mezzogiorno, visto che ci sono state altre aggiunte qualche minuto fa, e anche poi dei pareri, visto che io questa classe in America già l'ho giocata, l'ho giocata per circa 6 ore, l'ho testata per bene, ho cercato di capire bene qual è il funzionamento suo, qual è e quale non è, e vi darò anche dei pareri relativi a determinate cose, va bene? Prima di iniziare però ragazzi, a parte ricordarvi sempre un'altra cosa già che ci sono, cioè che ragazzi sul mio Instagram, poli.hs, qualsiasi spoiler della nuova espansione Ashes of Outland, lo troverete nelle storie, troverete nelle storie le carte man mano che vengono spoilerate, anche quelle che stiamo per andare a vedere lo troverete lì nelle storie, e seguitemi su Instagram per sapere in tempo reale quando viene rivelata qualcosa, e quando viene rivelato qualcosa lo trovate appunto nelle storie. Andiamo a vedere subito la prima cosa, prima di andare a vedere il Demon Hunter, cos'è, come si gioca, le sue carte, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, prima di iniziare, io vi devo parlare degli Amazon Coins, perché ieri vi avevo detto di non fare i pre-order, e oggi però finalmente invece i pre-order voi li potete andare a fare. Infatti a Amazon e quindi col mio network siamo riusciti a trovare gli accordi per Amazon Coins, e premetto fin da subito che i link sono sotto in descrizione. Primo link, ragazzi, proprio ancora sotto, ancora sopra Twitch, Instagram, eccetera, primo link Amazon Coins. Cliccateli e ascoltate bene quello che vi sto per dire. Vi vedete, questi sono i due pre-order dell'espansione, troverete due pre-order di questa espansione, cioè quello di là che è da 55 buste, una leggendaria dorata, e il nuovo card back con i due serpenti, che costerebbe 50 euro, aspettate, oppure il pre-order che vedete qua sotto, che vi dà l'eroe alternativo 90 buste, una leggendaria dorata, 4 ticket per l'arena, e il pass battaglia, che adesso vi spiego che cosa è. Il pass battaglia semplicemente è una serie di vantaggi aggiuntivi in modalità battleground, cioè vi darebbero per esempio accesso a statistiche aggiuntive, a tutti gli eroi man mano che vengono rilasciati in anticipo, quindi vi danno la possibilità di giocare prima degli eroi rispetto agli altri, insomma vi danno una serie di vantaggi importanti per chi gioca a battleground. Vi dico ragazzi, sto cazzo di pass battaglia, è utile comprarlo solo se lo comprate col pre-order, cioè se voi comprate il pre-order prendetelo, secondo me se no non ne vale la pena spenderci 20 euro, è chiaro che se uno fa il pre-order, visto che già te lo buttano dentro, tanto vale, ok? Allora, attenzione, questo pre-order costerebbe 80 euro, 79,99. Con gli Amazon coin, il pre-order di là, quello da 55 busti, costa 42, quindi risparmiate 8 euro, mentre il pre-order qui sotto, quello da 90 busti che costerebbe 80, lo pagate 69, quindi andate a risparmiare 11 euro. Se voi li comprate entrambi risparmiate 11, più 8 risparmiate quasi 20 euro. Ragazzi, io lo sapete, consiglio il pre-order di una singola espansione all'anno, soprattutto per chi magari non può farlo, ed è sempre quella di aprile. E quella di aprile, ragazzi, perché quella di aprile è quella che durerà per più tempo, e soprattutto adesso che abbiamo anche una serie di vantaggi importanti, cioè se comprate il pre-order, vi ricordo che ogni busta da adesso in poi non può più darvi la terza copia di una carta che già avete. Infatti avete letto la patch, praticamente adesso se voi aprite una busta troverete sempre carte che non avete. Questo non significa che però se aprite 40 buste avete trovato tutta l'espansione perché trovate 5 leggendari a busta. Non funziona così. Voi potete trovare tutte le rare, tutte le comuni, tutte le epiche e poi ovviamente in percentuale anche le leggendarie. È molto migliore perché vi dà ovviamente tutte le rare, tutte le comuni senza che ve li dovete craftare perché aprendo tante buste e sicuramente le trovate. Quindi i pre-order secondo me diventano fondamentali, sono molto più vantaggiosi. Se comprate quello da 42 euro risparmiate per appunto 8 e vi portate a casa 55 buste leggendari dorata eccetera. Se invece prendete questo vi portate a casa 90 buste, pass battaglia, 4 ticket per l'arena anche quelli fanno comodo, alla fine sono minimo 4 buste in più, l'eroe alternativo eccetera eccetera. Mi raccomando ragazzi, se fate i pre-order fatelo con gli Amazon Coins link qua sotto in descrizione, il primo vi spiega tutto quanto risparmiate sti cazzo di soldi. Voi avete la stessa cosa risparmiando soldi. Cioè siete degli idioti se fate il pre-order senza gli Amazon Coins. Voi sappiate una cosa, io dai miei link ragazzi questa volta non guadagno in base a quante persone porto. Quindi per me io potrei anche non dirvelo. Io ho un guadagno fisso da Amazon questa volta, a me danno X fissi. Quindi a me potrebbe sbattermi nel cazzo a dirvi a tutti, inculatevi, prendete i pre-order a prezzo pieno non me ne frega un cazzo, tanto a me pagano lo stesso. Lo faccio perché potete risparmiare soldi ed è da stronzi secondo me sprendere X e avere la stessa roba di chi invece spende meno. Quindi per l'amor di Dio spendete meno, usate Amazon Coins. Link qua sotto in descrizione. C'è anche il video che vi spiega come funzionano. Per l'amor di Dio, per qualsiasi dubbio, contattatemi su Telegram, su Instagram, sulla Madonna di Cristo, dove volete mi trovate disponibile. E questo per quanto riguarda il pre-order. Passiamo ora al fulcro invece del video. Che cazzo è sta roba? Io non lo so. Allora, il fulcro del video, ovvero il cacciatore di demoni. Cacciatore di demoni che, mentre io lo dico, sembra che la mia vita stia sfuggendo dalle mie mani. Signori, è il nostro caro amico Illidan. Illidan è il decimo eroe di Hearthstone. Lo dico fin da subito perché molti me l'hanno chiesto. No ragazzi, nessuna classe ruota. Verrà proprio aggiunta una nuova classe. Arriviamo proprio a quota 10. Ok? Quindi, Demon Hunter sarà proprio una nuova classe. È il primo hero power in assoluto a umana. Blizzard l'ha fatto che l'hero power è per appunto umana. Dai più uno d'attacco al tuo eroe questo turno. Ed è un eroe molto aggressivo. Allora, voglio mettervi in chiaro fin da subito una cosa. A voi questo eroe sembrerà sbroccato. Come sempre inizierete a dire Blizzard merda. Blizzard non sa bilanciarlo. Che poi, la gente che parla senza aver giocato la classe e senza ancora averla vista. So come cazzo fate a parlare. Secondo me siete un po' idioti, però come volete. Fondamentalmente, ragazzi, io vi garantisco che è una classe che per carità è molto aggressiva. Assolutamente. Ma se non hai il culo di usare Outcast, adesso vediamo che cos'è, in curva di mana. Fondamentalmente tu finisci le risorse a turno 5. A turno 5, se non hai ucciso l'avversario, tu hai perso. Ok? È una sorta di Hunter. Infatti è una crasi tra Warlock e Cacciatore. Va bene? Ma adesso lo andiamo a vedere. L'hero power a 1, ragazzi, lo sapete usare sempre. Il Demon Hunter ha tantissimi vantaggi se attaccate col vostro eroe. E lui stesso è una risorsa. Cioè, nel senso, i punti vita del tuo eroe. E uniti al fatto che hai tante armi, tanti buff, tanti attacchi col tuo eroe, diventa una risorsa. Quindi tu sei una risorsa che entra in battaglia. Però il problema è che ti devi schiantare addosso ai minion. Quindi perdi una valanga di vita. E questo, secondo me, lo rende più debole rispetto invece al Face Hunter, che invece picchia a cazzo e non gliela fai niente neanche della sua vita. Ok? Quindi, Demon Hunter, hero power a 1. Andiamo a vedere quindi subito la sua parola chiave, che si chiama Ripudio. Vabbè, adesso è tutto in inglese perché era più bello in inglese. Allora, Ripudio si attiva, o Outcast, si attiva se la carta in questione è o all'estrema destra o all'estrema sinistra della mano. Cosa vuol dire? Se io in mano ho queste tre carte, se io gioco Spectral Sight, ok? Lo gioco, quindi ho questa mano, lo gioco perché sarà giallo, visto che è la mia carta più a sinistra o più a destra, dipende come guardate il video. Non solo pesco una carta, ma ne pesco un'altra. Poi, automaticamente, il teschio di Gul'dan diventa la mia carta più a sinistra. Quindi, nuovamente, anche questo se lo gioco mi fa pescare tre, e vengono discountate di tre, e così via, così via, così via. Ok? Molto semplice. La carta più forte con Outcast, comunque, è questo I-Beam, che, per appunto, costa zero se lo riusciamo ad Outcastare. Ora, andiamo a vedere, quindi, tutte le carte, ragazzi, insieme, perché ne sono state rivelate parecchie, e voglio vederle insieme a voi, tutte quante. Allora, premento una cosa, e vabbè, School of Gul'dan è questo, l'abbiamo appena visto. Premento una cosa, ragazzi, prima di andare avanti, vi faccio vedere il teschio di Gul'dan che non c'è sotto, non si sa per qual motivo. Il Demon Hunter potrà avere, probabilmente, tre forme, ok? Tre forme, nel senso, tre tipi di deck. Deck super aggressivo che va solo faccia, non gliene sbatte un cazzo, ignorante face Demon Hunter, ok? La versione demoni grossi, basato molto su evocare ciccioni, evocare demoni, sapete che lui ha un rapporto strano con i demoni, eccetera, eccetera. E infine la versione token, che spawna Cristo, cioè mette in board anche sua madre, ci sono 800.000 token. Queste saranno le tre versioni Demon Hunter, io le ho provate tutte e tre in America, con vari recipe, già abbiamo lavorato con gli streamer professionali, con pro player, eccetera. Più o meno, ragazzi, mi sento di dire che la versione aggressiva e la versione che swarma token in board sono le più forti. La versione demone non ci aveva convinto molto. Adesso andiamo a vedere, però, tutte le carte insieme. Allora, partiamo dalle carte di questa nuova classe. Allora, innanzitutto, ci tengo a chiedervi una cosa, cioè, ditemi cosa ne pensate voi di questa classe, cosa ne pensate, se vi sembra forte, debole, cazzi o mazzi. E sotto nei commenti cerchiamo di fare una cosa pulita e di parlarne in modo figo. Allora, mi ha appena chiamato mia amorosa, vabbè, non importa. Allora, il Demon Hunter è caratteristico di avere un sacco di armi, infatti ne vedremo molti. La prima carta che andiamo a vedere è Warglaze of Asinot. 5 mana, 3-4, dopo che ha attaccato un minion può attaccare di nuovo. Semplicemente è un'arma che abbiamo già visto anche in forma di minion, e vedremo anche in forma di minion, infatti, che serve per attaccare e poi riattacchi. La cosa bella di quest'arma, come tutte le armi che avete col Demon Hunter, è che voi, vi ricordo, che a un solo mana gli aumentate l'attacco di uno. Il che significa che questa, a 6 mana, è praticamente 6 mana 4-4, che può attaccare 4 pezzi, volendo fare anche board clear, se non sono troppo grossi. Warglaze of Asinot, però è una carta che fondamentalmente a me non piace molto. Metamorfosi, questa è la prima leggendaria. Io, come ho già detto anche in stream, ci saranno due leggendarie, se non sbaglio, adesso non mi ricordo. L'altra leggendaria del Demon Hunter, credo che sia la cosa più sbagliata mai stampata su Hearthstone. Lo vedrete, io non posso dirvi nulla fino a che non viene rivelata. L'altra leggendaria è qualcosa di estremamente sbagliato e sbloccato, però dovete assolutamente aspettare a brizzata che la riveli. Metamorfosi, infatti, dice, è l'altra leggendaria che dice, 5 mana, cambia il tuo Eropower in 5 danni. Dopo 2 utilizzi, torna a essere l'Eropower normale. Ovviamente si intende che il tuo Eropower costa 1 e fa 5 danni, quindi questa qui semplicemente è Pyroblast a 7 mana. Pyroblast a 7 mana in due turni separati, ok? Però dopo torna per appunto il tuo Eropower originale. Una carta che secondo me non è così forte, non è così forte a meno che non la discounti o non la giochi in una versione controllosa, quindi magari nella versione Demoni Grossi, la versione con i Demonozzi, che però, ripeto, è quella che mi ha convinto meno in America. Soul Cleave, una rimozione, il Demon Hunter, essendo un combattente molto aggressivo anche su World of Warcraft, ha un sacco di AOE, infatti questa è una delle tante. 3 mana, infliggi 2 danni a 2 minion separati e a Lifesteal. Avete presente Cleave, la 2 mana, fa i 2 danni del Warrior? È la stessa cosa, solo che costa uno in più e ha Lifesteal, giustamente ha Lifesteal perché così almeno riesci a curarti un po'. Un tool per la versione Demone Grossa del Demon Hunter, che serve per rimuovere pezzi piccoli e guadagnare qualche punto vita sulla board, ma soprattutto nei turni in early. Shadow Wolf Slayer. 1 mana, 2 1, il tuo eroe guadagna più 1 d'attacco. Molto semplice, il tuo eroe guadagna più 1 d'attacco serve per attivare la risorsa eroe, la chiameremo così, la risorsa eroe, nel momento in cui non hai il mana per farlo. Quindi lui invece ti mette un 2 1 e ti dà più 1 d'attacco, quindi ti regala un Hero Power, mettiamola così. Questa cosa è molto forte per alcune carte che adesso andremo a vedere subito dopo. Blur, Blur non lo youtuber, 0 mana, il tuo eroe non può prendere danni in questo turno. Come avete capito, il Demon Hunter è una classe che trada molto col proprio eroe, attacca un casino di minion, di pezzi, cose, quindi giustamente se va con la faccia perde tanti punti vita. Blur ti permette di non prendere quei danni e praticamente di salvarti il culo almeno un turno, rimuovendo magari qualche pezzo grosso. O se lo mettiamo in combo con le Warglaive o Vazino, rimuovendo magari tutto senza prendere per appunto un singolo punto danno. Satir Overseer, il motivo per cui questo va in combo con alcune carte, 3 mana 4 2, dopo che il tuo eroe ha attaccato, evoca un Satir o 2 2. Questa è sia per la versione aggressiva sia per la versione che swarma token in board, perché come avete capito, tutte le volte che tu attacchi, evochi un pezzo, tu attacchi veramente molto spesso, il Satir Overseer, difficile che lo giocherai a turno 3, a meno che non hai la coin per farci anche hero power, lo giocherai sempre quando puoi già attaccare. C'è una cosa molto forte che adesso andremo a vedere ed è un'arma che entra a turno 2 e che va in sinergia con lui, ma la vediamo fra poco. Comando degli Illidari, 5 mana, evoca 6 token con Rush 1-1. Questo ovviamente era per la versione che swarma token in board e tutti questi piccoli Illidarini, questi piccoli Demonozzi, ok, che noi andiamo a evocare per poi morire, servono per essere sacrificati per alcune carte che adesso andremo a vedere. Voi le vedete un po' sconclusionate perché sono messe a cazzo le carte, però sappiate che ognuna di queste carte si lega a qualcos'altro e man mano che le vediamo io ve le dico. Mana Burn, il Demon Hunter ce l'ha molto con sti cazzo di demoni, mentre Paolo si ruba cose nella casa, ce l'ha molto con i demoni al punto di voler rubare il mana. Uno mana, infatti, va a bruciare due mana nel turno dell'avversario. Questo serve molto per quando l'avversario magari vuole fare una combo e non può farlo o semplicemente se vuoi avere un vantaggio di bloccare due mana nel turno dell'avversario. È molto forte perché appunto l'avversario non può fare play around a il non avere mana. Se tu gli blocchi il mana in un turno in cui stava andando in curva, buona fortuna ed è una cosa veramente molto fastidiosa sta carta. Secondo me viene giocata a prescindere in qualsiasi versione aggressiva, non aggressiva, cazzi e non cazzi. Urzul Horror. Da niente, c'è Paolo che è completamente infattito. Aspetta che chiudo la porta. Ci manca solo che perdo voce anche con Paolo. Uno mana, due uno, aggiungi un due uno nella tua mano. Niente di chi è ragazzi, è un uno mana. Due uno che evoca un due uno nella tua mano. Non credo di dover perdere parole, già ne ho poche. Questa è l'arma che vi dicevo andava in sinergia col Satiro Versir. Questa carta qui è rotta ragazzi, è una delle carte più forti del Demon Hunter. Stiamo parlando probabilmente delle carte, delle top five carte più forti del Demon Hunter. Anche se la leggendaria è sicuramente la carta meno cinque da quanto è forte. La leggendaria che voi non avete visto. Due mana, uno due. Quando entra evoca due uno uno. Questa cosa è veramente forte. Questa cosa è forte perché Swarm ha token in board fin da subito e servono per attaccare, rimuovere, tradare e fare danni. Ti dà un'arma, quindi sinergizza col fattore attacca con l'arma. Se noi giochiamo in curva di mana al Satiro Versir, evochiamo anche un due due il turno successivo. E dà due di durabilità. Quindi il che significa che se io voglio darci più uno d'attacco ogni turno col mio Hero Power, posso anche farlo. Perché ricordo che l'Hero Power dà più uno d'attacco. Questa carta qua mi piace veramente un sacco. Uno mana, due due. Quando il tuo eroe attacca, guadagna più uno d'attacco. Sta cosa è sbagliata? Sta cosa va fuori controllo molto facilmente. Mi aspetto un nerf sul Battle Fiend che diventerà probabilmente un 2-1. Perché appunto dice che ogni volta che il tuo eroe attacca, guadagna più uno d'attacco. Ovviamente quando giocherai questo, sarà sicuramente un 3-2, poi diventerà un 4-2, un 5-2 e via così. E poi diventa praticamente ingestibile. Questo qua, turno 5, praticamente ti ha già fatto 15 danni. Senza che neanche te ne sei accorto. Veramente forte con la coin. Partendo di lui con Hero Power è veramente qualcosa di sbagliato. Fist of Souls, carta che va in sinergia con lo Swarmare token in board, 2 mana. Per ogni minion morto questo turno, pischi una carta. Come avete capito, i minion muoiono tanti, muoiono tanti minion quando avete la versione che spawna tanti token nella board. E questo è uno dei tuoi pochi card draw per quel tipo di mazzo. Oltre ovviamente alla parola Outcast, che adesso andiamo a vedere in una delle carte. Illidari Failblade, 4 mana 5-3, Rush, Outcast guadagna immune. Ricordo Outcast, si attiva se è la carta più a destra o più a sinistra. 4 mana 5-3 immune, raga, con Rush. Che cazzo vi devo dire? Sta carta è veramente forte, sta carta l'ho provata in America. Porca puttana se è rotta questa. Questa è proprio bastarda, se riesce ad attivarla, e di solito ce la fai, come avete visto i costi di mana per la versione, diciamo, aggro, è molto bassa. Quindi riuscire a spostare una carta nella tua mano è molto semplice. Porca puttana, ragazzi, sta carta è veramente grossa. Sta carta è veramente grossa, veramente bella. Sempre top 5 delle carte più forti dell'espansione. Flame Reaper, questa carta a me non piace. Premetto, 7 mana 4-3, quando attacca un minion, attacca anche quelli adiacenti. Per carità io non l'ho giocata perché non ho mai giocato, cioè ho giocato molto le versioni, ma non ho mai provato a mettersi dentro anche carte che non sono, diciamo, inerenti all'archetipo. Cioè se ho fatto l'archetipo demoni grossi, avevo messo dentro solo demoni grossi. E questa qua è un'ottima rimozione. Un'ottima rimozione a me, ripeto, non piace troppo, però è vero che è difficile giocarci contro. Soprattutto all'inizio sarà difficile ricordarsi del positioning rispetto a Flame Reaper. Attacchi un pezzo, prendi e fai un attacco a 12 danni. È esattamente quello che fa Hydra su Battleground, visto che siamo tutti con la mentalità Battleground. È molto carina, però è anche vero che costa 7 mana. Una volta si giocava il decay di Garrosh, che aveva un'arma simile, costava se non sbaglio 8 o 9. Sì, è vero, era forte, però era anche un decay, sai, ti dava little power, eccetera, eccetera. Non lo so, mi piace, ma non riesco a capire dove vorrei usarla, semplicemente. Wrath Spike Brut, 5 mana, 2,6. Quando questo minion è attaccato, infligge un danno a tutti i nemici. È semplicemente la carta demone che serve per tenere botta, fino a che appunto non continui a rampare il mana, a crescere di mana, a iniziare a giocare demoni grossi, rimozioni, eccetera. È un'ottima rimozione ed è un ottimo taunt. Questo è veramente bello, perché se non viene one-shotato da un attacco, praticamente pulisce la board dell'avversario. Aldruachi Warblades, sta cosa è rotta, ragazzi. Sta carta è una sempre delle top 5 carte più forti dell'espansione, più forti del demon hunter. 3 mana, 2,3 con lifesteal. Io non devo spiegarvi il perché, ovviamente, il lifesteal sia forte, visto che il demon hunter ha il suo hero power, che praticamente ti permette di buffare anche le armi. Questa carta come minimo ti fa curare di un terzo dei tuoi totali HP. Minimo di 10. Se non sbaglio, la quantità minore per la quale mi sia curato in America è stato 11, perché molte carte lo buffano, eccetera. È un ottimo modo per guadagnare vite, è un ottimo modo per rimuovere, è un ottimo modo per attivare sempre il tuo eroe, ed è un compromesso attacco-guadagno-vite molto molto bello, molto molto forte, carta veramente decisamente grossa. Coordinated Strike, 3 mana, evoca 3 rush, 1-1. Abbiamo visto la sua versione più grossa, che ne evoca 6. Questa è la versione più piccola, che ne evoca 3. Adesso andremo a vedere anche una carta che sinergizza con la morte di questi ragazzi. Adepto, 5 mana, 7-4. Dopo che il tuo eroe ha attaccato, questo infligge 4 danni. Questa è veramente grossa, ragazzi. Non è facilissimo attivarla, perché comunque stiamo facendo 5 mana. Di solito lo giochi a 6, a meno che tu non abbia già un'arma equipata, o la Spella 0, che adesso andiamo a vedere subito dopo l'Adepto. Però è anche vero che stai giocando un 7-4, che quando entra fa 4 danni. Cioè, può andare anche faccia, chiaramente, quindi può essere anche utilizzato nella versione aggressiva del deck. C'è poco a dire, mi piace, non è così forte come sembra, ma è molto molto forte, ok? È veramente molto molto forte. Più che altro non è fortissimo, perché vi renderete conto che a meno che non avete un'arma, non è facilissimo attivare il proprio eroe come risorsa di attacco. Cioè, lo attivi facilmente, per carità, con queste cose qui, eccetera. Però, tutte queste cose che ti fanno attivare l'eroe, poi però ti fanno finire le carte. Perché tu finisci le carte. Con questo eroe tu finisci le carte, subito. Andiamo a vedere Twin Slice. Zero mana, il tuo eroe guadagna più 1 d'attacco, e ti aggiunge un Second Slice. Second Slice è esattamente questa carta, che c'è scritto, dai più 1 d'attacco al tuo eroe, a costo 0. Basta. Quindi è 0 mana, dai più 2 d'attacco al tuo eroe. Chiaramente tu non lo farai mai così. Lo vuoi usare in due turni separati, in modo da poter attaccare quel tuo eroe, anche quando non hai il mana per fare di raw power, o anche se non hai un'arma. ottimo attivatore delle risorse, ottimo attivatore della risorsa eroe, e ottimo attivatore di molte carte che dicono se hai attaccato. Chaos Nova, AOE, Flame Strike, fondamentalmente 5 mana, fai 4 danni a tutti i minion, ovviamente è una carta che giocheresti solo nella versione Demoni Grossi, e lo giochi perché appunto spacca tutto. È Flame Strike a 5 mana, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Non credo che serva a dirvi nient'altro. Blade Dance, infliggi danno uguale all'attacco del tuo eroe a 3 random enemy minion. Praticamente a 2 mana voi potete fare di media 2-2-2, quindi 2 mana, 6 danni sulla bordo avversaria in early game. Dico circa 2 perché di solito non usi mai solo l'hero power. Cioè non è che fai hero power passo. Se hai un'arma equipaggiata, cazzo, iniziano a diventare arma più hero power, iniziano ad essere 3-3-3, magari 4-4-4. È una bella rimozione. È una bella rimozione, è una carta decisamente forte, molto molto carina, è difficile da usare correttamente. Ecco, questo è quello che ho provato io quando ero in America. E i beam 3 mana, l'abbiamo vista prima, la carta più forte con Outcast del Demon Hunter, perché appunto va a costare 0. 3 mana, fai 3 danni e un minion con Lifesteal, e se la giochi con Outcast ti costa 0. Cioè, questa è fortissima, ragazzi. Cioè, questa è veramente veramente forte, perché la puoi attivare sempre. Cioè, tu puoi dire, ok, gioco tutto, quello prima o quello dopo, in modo che sia la carta più a destra o più a sinistra, così almeno lei mi costa 0. Cioè, io posso anche sprecare tutte le risorse per attivare il suo Outcast, perché tanto poi mi costa 0. Veramente, veramente forte. Abbiamo qualche carta per la versione Demone Grosso, e Demon Hunter versione Demoni Grossi. 4 mana, 4-4. Il prossimo Demone che giochi costa 2 in meno. Quindi, adesso noi vedrete molti più Demoni, chiaramente ne vedrete sempre di più, man mano che il tempo passa. Vi garantito che questa carta, in combinazione con una carta che sicuramente non avete visto, perché è stata spoilerata mezz'ora fa, è veramente OP. E adesso però noi andiamo a vederla. Sta carta è veramente forte, veramente, veramente forte. Hulking Overfiend, lo possiamo vedere come 8 mana, oppure come 6 mana, visto che lui discounta di 2. Rush, dopo che questo minion ha attaccato e ucciso un minion, può attaccare di nuovo, ed è un 5-10. 5 d'attacco è veramente tanto, perché vuol dire che si attiva praticamente sicuramente. Un bel demonozzo di quelli gazzuti grossi, che va a rimuovere la board, per mantenere una sinergia Demoni Grossi con il Demon Hunter. Consume Magic, è 1 mana a silenzia, se è a destra o a sinistra peschi anche una carta. Giustamente è anche doveroso rimuovere magari i taunt, piuttosto che di attratto i fastidiosi, e hanno dato anche un bel silence utile anche al Demon Hunter, che almeno magari ti va a pescare una carta, se proprio vuoi giocare di main il silence. E infine abbiamo il Ratskill Naga, 3 mana, 3-1, che infligge 3 danni, ha un random aim. Un attimo solo che sto rispondendo a, chiamando mia mamma, 3 mana, 3-1, quando un minion muore, infliggi 3 danni a un nemico casuale. Fondamentalmente ragazzi, serve perché è un Knife Juggler, serve con tutti questi pezzi, che per appunto andate a far saltare, e a fare esplodere, uno a uno, più più, chi più ne ha più ne metta. Andiamo però a vedere, prima di finire, due carte che sono state spoilerate, oggi, e sono ragazzi, per appunto, Soul Spirit, che è una 4 mana, scegli un minion, scegli un demone, ne evochi una copia. Questo è molto forte, perché purtroppo, adesso che mi rendo conto, manca un demone, aspetta che vediamo, se riesco a trovarvelo, manca un demone, che alla fine del turno, mi sembra, beh ve lo dico, senza farvelo vedere, è un demone che dice, 9 mana, 7-9 taunt, alla fine del turno, evoca un demone dal tuo mazzo, una sorta di void, lord ok, è una sorta di cosa del genere, un bel minion grosso, che tira fuori i demoni dal deck, copiare quel demone, con Soul Split, sarebbe una cosa veramente grossa, e molti molti altri. Questa è la carta, che vi dicevo ragazzi, che va molto in combinazione, con il 4-4 qui presente, con lui, perché lo potresti giocare poi, a 3 mana, perché ragazzi, è una carta, con la nuova keyword, dormant, ovvero dormiente, le carte dormienti, quando entrano, o quando vengono invocati dal mazzo, saranno sempre dormienti, anche se le evolvete, se voi evolvete un drop a 4, e esce lui, entra dormiente, sempre, dopo due turni che dorme, quindi io lo gioco a turno 5, turno 6 dorme, turno 7 si sveglia, si attiva un effetto, però non può attaccare, perché ovviamente, è appena entrato in board, l'effetto dell'imprisoned, anathen, anathen, è l'effetto più forte, di tutti i minion dormienti, ve lo garantisco, che è veramente rotto, c'è scritto che fa 10 danni, splittati casualmente, nella board, dei nemici, anche all'eroe, vi garantisco che questa cosa qui, fare play around, su questa roba, è veramente difficile, perché i minion dormienti, sono difficili da giocare, ma è anche difficile da giocarci contro, perché ovviamente, tu sai che, quando si sta per risvegliare, sta per arrivare una pyroblast, e in più, c'è un 10-6, demone in campo, mica cazzi, mica cazzi, ok, signori, la mia voce, ormai, giunge alla fine, e io oggi devo anche fare live, anzi, ci diamo il live su Twitch, alle 18.30, per tutti quelli che vogliono esserci, signori, non posso fare nient'altro, che ringraziarvi nuovamente, per la visione, ringraziarvi per il like, se l'avete messo, rinvitarvi a guardare, gli Amazon coins, in descrizione, con tutti i link, mi raccomando, acquistate con Amazon coins, perché sennò, siete degli stronzi, se non, se non acquistate, se acquistate il pre-order, con i soldi normali, perché sprecate più soldi, cosa volevo dire, niente, grazie per la visione, sto morendo, signori, ci vediamo in live più tardi, su Instagram, con tutti gli spoiler, già ce ne sarà uno fra un'ora, quindi, mi raccomando, seguite Instagram, che ce ne dovrebbe essere uno, anche alle 15, ragazzi, a dopo, non dico altro, perché la mia voce, sta finendo, bella.